La Giunta Municipale ha approvato il nuovo bando per l'assegnazione delle aree comprese nella zona industriale PIP. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti possono presentare apposite stanza entro il termine del 7 dicembre 2012. Ad annunciarlo il Vice Sindaco e Assessore delle Attività Produttive, Rosario Schemmeri, il vecchio bando spiega risaliva al dicembre del 2007 e ha avuto validità per i tre anni successivi a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione che risulta pertanto scaduta. L'amministrazione in carica ha quindi messo un nuovo bando perché si possano assegnare i lotti ancora disponibili circa una decina. In questo modo, dice ancora Schemmeri, intendiamo soddisfare le istanze di chi ha realmente necessità e volontà di continuare o intraprendere la propria attività in una zona con destinazione specifica alla produzione. Anche questo può rappresentare una piccola boccata d'ossigeno per l'economia locale che ovviamente risente della più generale crisi economica che attanaglia la nostra società in tutti i suoi settori. Per quanto riguarda l'assegnazione dei lotti e gli aventi diritto, il sindaco Ilfano assicura che saranno accelerati i tempi burocratici per espletare tutto l'iter.